Dietro di lei sorge questo nuovo comune di Vallefoglia, un comune che è all'interno di questo plesso importante dove c'è il centro commerciale, la guardia medica, scuole e quando è che potete accedere a questo nuovo comune? Ma pensiamo quanto prima, in effetti il comune ha già quasi ultimati i lavori, stiamo ragionando per realizzare i parcheggi e la piazza in funzione del comune, della casa della salute, della palestra che c'è qua e anche del nuovo centro commerciale che prevederà delle attività residenziali, commerciali da parte dei vitri che è il proprietario di quest'area e che ci consentirà di avere a breve, io spero nel giro di un po' di mesi, l'inaugurazione del nuovo comune che consentirà a tutti quelli che stanno a Fondovalle di evitare di andare a Colbordolo, a Sant'Angelo dell'Isola, eccetera. Naturalmente manterremo delle presenze soprattutto per le persone anziane a Colbordolo del Sant'Angelo dell'Isola ma qui ci sarà quella popolazione di circa 13.000 abitanti che sta nella vallata, avrà possibilità di avere in un unico luogo tutti gli uffici con un forte risparmio, anche nel contenimento energetico, con una qualità maggiore anche per i cittadini che verranno in comune e quindi direi che è molto importante. Dall'altro lato c'è invece la casa della salute, com'è la situazione legata alla guardia medica? Una situazione che negli ultimi mesi è stata complicata anche a livello regionale? Io credo che sia difficile trovare una ragione per la quale non ci debbano essere le guardie mediche qui a Vallefoglia a servire i 50.000 abitanti, negli altri comuni anche dell'Unione, perfino a Pesaro. Mi sembra un'assurdità, spero che la regione lo risolva quanto prima. Poi stiamo lavorando con l'assessore Baldelli per un potenziamento anche strutturale della casa della salute e soprattutto dei contenuti. Tutto ciò che non è ospedale si deve fare qui e nella casa della salute a Vallefoglia. Questi 50.000 abitanti si fa fatica a capire perché devono andare a Ricciona, a Pesaro, Fano, Urbino. E con l'assessore Baldelli avrete un incontro settimana prossima? Sì, dovremmo avere un incontro per fare il punto sulla casa della salute, sui temi della mobilità, del maggior uso del mezzo pubblico, magari facendo investimenti in una mobilità più veloce nel comprensorio pesarese, a cominciare da quest'area di Vallefoglia. Abbiamo incontrato anche la società dei trasporti AMI e stiamo lavorando insieme alla regione e all'AMI per un miglioramento della mobilità pubblica, per lasciare un po' più di macchine a casa, ridurre l'inquinamento atmosferico, risparmiare anche nel mezzo pubblico piuttosto che il costo della benzina di oggi.